Qual è l'ultima cosa che hai fatto l'altra sera? Perché io sto qua? Perché è nato un trattamento sanitario obbligatorio. Che vuol dire che io non posso uscire da qua? Eh no, se no non si chiamava obbligatorio. Io sono Gianluca e sono vergine. Quello è Mario. Lui è Alessandro. Madonnina l'hai già conosciuta. Chi è questo? Si chiama Giorgio. È al quarto DSO. Al quinto gli regali non piace a Escelle. Io non c'entro niente in questo posto. Qua ci stanno i matti. Vedi io qua non ce li mando. Non fa così. Sette giorni passano presto. Che bollessia. Come va a mangiare questa roba? Chiudi gli occhi. tra una cucchiaiata. E pensi alla carbonara. Mi sa che con me non funziona. Sarai pronto. Solti che questo posto me lo immaginavo un pochino meglio. Sì. E fatti perché te sei qua dentro. Infermiera. Infermiera. Andare un passo più avanti. Essere sempre vero. Spiegare cosa è il colore. A chi vede bianco e nero. Tre. Due. Uno. Questa cosa di te che mi fa incazzare. Che? Che mi fa ridere. Forse i miei compagni a distanza sono la cosa più simile alla mia vera natura che mi sia mai capitato di incontrare. Per i pazzi di tutti i tempi ingoiati dai manicomi della storia. Sanzezza. C'hai vent'anni Ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi